Ciao ragazzi ecco a voi un nuovo video della Nellar Collection siamo arrivati all'uscita 48esima che troverete di Nicola il primo di dicembre con all'interno un foglio sticker 3D che state appunto sticker tattoo scusate che state appunto vedendo adesso e i velvet bianco e lilla anche in questo caso abbiamo fatto due tutorial uno fotografico con la collaborazione di Stella e uno fotografico e video dove i video li trovate nei social annessi abbiamo fatto un tutorial dove richiama Alice nel paese delle meraviglie per il secondo tutorial invece per quanto riguarda il primo l'abbiamo fatto molto goloso vi dico solo questo utilizzando ovviamente i gadget dell'uscita spero tanto che come al solito vi faccia piacere vi piaccia comunque vedere alcuni pezzettini dell'uscita stessa e al prossimo video un grosso bacio ciao